Buonasera a tutti gli appassionati di Pallacanestro e benvenuti ad una nuova puntata di Terzo Tempo. È passata un'altra settimana di basket, non soltanto in Serie A. Noi ci ritroviamo dopo due settimane perché c'è stata la pausa e finalmente si ritorna a parlare di Pallacanestro. Quest'oggi qui con me ci sarà il coach della Bedland Capodorlando, Gennaro Di Carlo. Buonasera Gennaro. Ciao Sergio e buonasera a tutti. Come ho appena detto è ricominciato il campione di Serie A perché si è fermato dopo la fine del girone d'andata. È cominciata la prima giornata di ritorno con una partita molto delicata per Capodorlando, molto complicata anche, al Forum di Milano con le Armani Jeans, con le A7 Milano. È arrivata una sconfitta, coach, una sconfitta che possiamo dire che può rientrare tra quelle preventivabili perché comunque parliamo sempre di una squadra che non perde da anni in casa. È arrivata una prestazione comunque importante. La Bedland ha tenuto testa a una squadra che comunque lotta per vincere ancora una volta lo Scudetto. Sicuramente al Forum abbiamo giocato una partita in emergenza, nel senso di partenza non avevamo arci. Tepic purtroppo ha avuto linee di febbre fino a poco prima della partita e si è aggiunto a questo ancora la non condizione dovuta sempre all'influenza del nuovo Nicola Ivanovic che era a vomitar negli spogliatoi durante il riscaldamento. E dunque siamo arrivati un po' a questo appuntamento messo in queste condizioni che chiaramente sulla carta ci vedeva ulteriormente svantaggiati. Al rientro da Milano ma anche durante la partita stessa e nel dopogara ero comunque moderatamente positivo e soddisfatto perché vedevo che comunque la squadra per l'ennesima volta ha cercato di produrre sul campo un certo tipo di gioco. I ragazzi secondo me tranne il break che Milano ci ha fatto nel terzo quarto siamo riusciti a rimanere abbastanza compatti e siamo riusciti a portare avanti un po' quelle che erano le linee guida che comunque dall'inizio di stagione ci seguono. Dunque nonostante le difficoltà appunto secondo me la squadra ha mostrato un'ulteriore volta la capacità di stare assieme. Dunque mi piace vedere questo aspetto positivo. Poi è chiaro perdere non piace a nessuno preparare la partita in situazioni chiaramente di così difficoltà mi rendeva agitato nervoso no un po' perché sai che sta andando in battaglia e devi capire con quali armi puoi sparare. Se quelli di là hanno i cannoni tu forse devi fare con i coltelli ecco però talvolta la stagione ti porta a gestire momenti del genere e anche qui giriamola in positivo perché in realtà è anche un dato di fatti importante. È meglio che una situazione del genere c'è da fronteggiarla quando giochi contro la prima della classe per giunti in casa loro che non magari una partita importante in casa con magari una diretta concorrente. Tra l'altro vedendo adesso il calendario è meglio vedere 14 partite senza dover affrontare Milano e quindi averla tolta subito sin da subito questa partita e affrontarla dopo. Assolutamente sì e dunque per questa ragione appunto anche dicevo meno male che questi problemi legati alle influenze li abbiamo affrontati nella settimana antecedente alla partita di Milano e dunque guardiamo avanti adesso con grande fiducia completando e portando avanti ancora il lavoro della programmazione tecnico-tattica inserendo adesso ancora meglio Nicola Ivanovic nella nostra struttura di gioco e dunque guardiamo avanti ripeto con grande fiducia. Prima di parlare di Milano-Orlandina vediamo cosa è successo quali sono stati i risultati della sedicesima giornata di campionato quindi vediamo il servizio e poi li commenteremo insieme al nostro ospite. Il girone di ritorno del campionato di Serie A si apre con tanti record stabiliti in due gare in particolare. È il record il più 36 di Trento su Brindisi massimo scarto positivo per l'Aquila da quando gioca nella massima serie. È un record negativo invece il totale di punti segnati 48 della stessa Enel di coach Sacchetti irriconoscibile in questa trasferta in tutti i suoi effettivi. Si salva solo Carter con una doppia-doppia da 11 punti e 10 rimbalzi. Male questa volta un baie 5 su 15 dal campo lontano parente da quello che ha dominato in tutte le partite del girone d'andata. Ma il merito è anche di Trento ben determinata aggressiva in difesa che ha portato 6 uomini in doppia cifra ed ha potuto inserire al meglio i due nuovi arrivi. Satton, cavallo di ritorno e Marble arrivato per impiazzare temporaneamente l'infortunato Laiti. Giornata indimenticabile anche per Brescia che asfalta Pesolo chiudendo la fine con un più 31, altro record in Serie A che non ammette repliche. Quanto fatto fino ad ora non basta più, serve uno sforzo maggiore, affermo l'aconico Bucchi al termine della gara, il quale può soltanto consolarsi per le contemporanee sconfitte di Varese e Cremona. I fratelli vitali dominano nelle voci statistiche, 21 i punti di Michele, miglior realizzatore della serata, e 19 gli assist di Luca che supera il record all time stabilito da lui stesso soltanto qualche giornata fa. Varese e Cremona perdono, dicevamo, la Vanoli cadendo sul campo di Pistoia, ancora una volta reso inespugnabile dagli uomini di esposito che trovano un grande Nathan Boot in una serata non di certo da ricordare per le percentuali di entrambe le squadre al tiro. Per la Open Job Metis di Caio invece sono state soltanto delle illusioni, quelle vittorie in Champions League, che sembravano aver allontanato le nubi su Bansnago. Situazione drammatica per Varese alla quale adesso restano poche cose a cui appigliarsi per evitare una caduta senza fine. La quinta sconfitta di fila arriva per mano di Sassari, bella, positiva, combattiva, che senza accorgersene si trova adesso catapultata in quinta posizione a pari punti con Reggio. Proprio la Grissinbon viene beffata al Palabigi e con questo le sconfitte consecutive salgono a tre. Caserta riesce quindi a dimenticare l'ultimo mese complicato e porta prima la partita supplementare con un tiro libero di Bostic e poi la vince con un canestro in fadeaway dell'ultimo arrivato Iacuba Diawara, che è tra l'altro uno dei sei uomini casertani ad aver chiuso con più di dieci punti a referto. Adesso Reggio dovrà fare i conti con una situazione di classifica che potrebbe essere migliore e con alcune diatribe interne che sarebbe meglio risolverle per non buttare al vento una stagione che era cominciata molto bene. Cantù dura un tempo contro una guerrida Venezia trascinata da un enorme peric, 27 punti, 7 rimbalzi, sicuramente MVP di giornata. La Reier è adesso da sola in seconda posizione ad inseguire Milano, vista la sconfitta di Avellino, a Torino nel posticipo serale. Quella del Palaruffini è una gara molto spettacolare ed equilibrata per 40 minuti. Da un lato Wright che regala attimi di grande basket, dall'altro Ragland che mette a segno sei bombe e ne fa 22. Avellino protesta per qualche decisione abritrale che può aver condizionato il finale di partita, ma un deluso Sacribanti nel postpartita parla piuttosto di poca aggressività nell'uno contro uno e di scarsa precisione in alcune situazioni. Poco male perché Avellino resta terza continuando a vivere una grande stagione, mentre Torino va ad inserirsi nel gruppone a quota 16. La prima vittoria su tutte, quella che ha segnato un po' tanti record, è la vittoria di Trento su Brindisi, come abbiamo sentito. 84 a 48, un risultato davvero sorprendente che adesso permette a Trento di avvicinarsi al gruppetto a quota 16 e tra l'altro di agganciare proprio Brindisi a quota 14. Vedendo la classifica, coach, ci sono sette squadre tra i 16 e i 14 punti. Questo sta a significare come la lotta play-off sia già serrata da adesso e soprattutto l'equilibrio del campionato, un equilibrio incredibile forse mai visto negli ultimi anni. Ma diciamo che è un po' quello che mi aspettavo dopo le prime giornate, vedendo chiaramente un equilibrio molto serrato. A eccezione delle prime quattro si è sempre detto che poi ci sarà una lotta realmente all'ultimo sangue per chi poi dopo sognerà il play-off e chi invece potrà anche vivere il dramma della retrocessione. Dunque il campionato sta dimostrando questo e chiaramente noi ci faremo trovare pronti per affrontare una seconda parte di stagione, a mio modesto avviso un po' più complicata della prima. La prima era complicata perché comunque c'era da mettere in campo una squadra per certi versi nuova, impiantare un sistema di gioco anche questo per certi versi nuovo. Adesso nella seconda parte credo che tutte le nostre avversarie non ci sottovaluteranno più se qualcuno l'avesse fatto prima. Dunque ci aspetteranno anche un po' di più al Varco e dunque sarà nostro dovere. Confermare che quello che finora abbiamo fatto di buono non è casuale ma è frutto di tutto un discorso riguardante la programmazione che parte già dalla fine dello scorso anno e che arriva ad oggi. Il calendario sarà per certi versi un po' più complicato di quello del giorno di andata, avremo meno partite in casa e più partite fuori casa. Le partite che avremo in casa saranno con squadre, tre di queste con squadre che ci precedono in classifica, quindi con squadre che in questo momento esprimono un valore a tutto tondo più alto del nostro. Dunque bisognerà avere tanta energia, tanta forza per cercare di rimanere inviolato il palafantozzi e poi per confermare questo quinto posto, comunque l'obiettivo che ci siamo dati che è quello di lanciare appunto la sfida ai playoff, evidentemente dobbiamo come dire invertire la rotta anche su quelle che sono le trasferte. Dunque capirete che il cammino da fare è ancora molto impegnativo, ancora molto lungo ma come abbiamo fatto finora insomma siamo pronti a lavorare duro in palestra e a farci trovare pronto step by step partita dopo partita per centrare appunto questi obiettivi che di volta in volta cominciamo a visualizzare. Chiaramente il discorso salvezza ovviamente sarà acquisito nel momento in cui l'Orlandina la conquisterà sul campo, però è anche vero che bisogna dare un'occhiata alle squadre che si trovano al momento sotto il Capo d'Orlando e parlo in particolare di Cremona e Varese che adesso sono a otto punti e di Pesaro che è a quota dieci. Sono delle squadre attualmente distanti dal Capo d'Orlando e a parte Varese che comunque è davvero in difficoltà in questo momento, è arrivato alla quinta sconfitta consecutiva, ecco Cremona e Pesaro due parole su queste squadre che stanno vivendo una stagione molto complicata, in particolare Cremona che lo scorso anno aveva fatto un grandissimo campionato e quest'anno invece si trova in grossa difficoltà. Sai Sergio, sono in questo momento difficili da decifrare, nel senso Varese ha già cambiato qualche giocatore e l'allenatore, Cremona ha già cambiato qualche giocatore e l'allenatore, l'unica che mi sembra più conservativa è Pesaro, anche se devo dire che avendole incontrate tutte forse è quella che mi ha fatto l'impressione peggiore, ecco. Però l'abbiamo vissuto noi l'anno scorso, tante volte il cammino di una squadra, i risultati possono cambiare da una domenica all'altra, si può acquisire un briciolo di fiducia in più, un briciolo di sfiducia in più, dunque la lotta lì sotto secondo me è ancora apertissima. Vi ricordo, o ricordo a tutti, che l'anno scorso noi vincemmo in casa contro Torino a sette giornate dalla fine, 26, una roba del genere, insomma, e da quella partita lì Torino riuscì a fare, sembrava spacciata, e da quella partita lì Torino riuscì a fare sette su sette, dunque capirete che ci sono ancora quattordici giornate da giocare, lì sotto tutto può ancora accadere. Dunque questa è l'impressione che ho avuto dopo la prima fase di campionato, ripeto, poi se Pesaro attingerà dal mercato, cambierà qualcosa, io oggi questo non posso né saperlo né prevederlo, per cui, ripeto, mi sembra che i giochi siano ancora tutti aperti. È ancora troppo presto per sparare sentenze. Momento social, come abbiamo detto, c'è stata una settimana di pausa un po' per tutti, le squadre si sono riposate, c'è chi è tornato negli Stati Uniti, alcuni atleti sono venuti a tornare appunto dalle famiglie, per esempio, Gerald Jones, che va a trovare la sua bimba negli Stati Uniti appunto, e la sua bimba che ha compiuto un anno, quindi diciamo che gli fa gli auguri per il primo anno di vita, insomma, e ha avuto pochi giorni, ecco, 3-4 giorni giusto per andarla a salutare e tornare negli Stati Uniti. Così come Dustin Hogg, che ricorda l'importanza della famiglia, dice, la famiglia soprattutto, fa appunto, mette una foto su Instagram, su questo appunto social network, con tutto il resto della famiglia, i fratelli, insomma, la mamma, i figli, un po' tutti quanti. Anche Antonio Giannuzzi di Capodorlando è tornato a casa, è tornato a Cesinali, giusto, si pronuncia così, in provincia di Avellino, c'era tanta neve, coach, tu che sei comunque di quelle zone, non proprio da Avellino. No, no, ma in quella zona lì è solito trovare d'inverno la neve, Avellino è un posto tutto sommato dove la neve è un fatto quasi abituale, insomma, dunque non mi meraviglia. Quindi tempo per tornare a casa, per tornare in famiglia, anche per Antonio Giannuzzi, tempo soprattutto per fare una proposta di matrimonio addirittura per Vaidas Karinauskas di Cantù, che posta una foto con la sua ragazza e dice, ha detto di sì, la amo tantissimo, quindi proposta di matrimonio a Milano, perché ci sono anche le foto del Duomo sullo sfondo. Andiamo avanti con Rakeem Sanders, che invece si stressa addirittura perché non riesce a trovare il nome al suo cane. Dice, non posso chiamarlo Milan, perché ho un compagno di squadra che si chiama Milan, Milan McVan, devo trovare un nome, insomma, qualcuno mi ha consigliato Bella come nome per questo cane. Mi sembra che il cagnolino somiglia molto a lui. Infatti, lo potrebbe chiamare Rakeem II, per esempio, oppure Rakeem Junior. Perché no? Chissà. Derek Needham, invece, che si rilassa a casa con la moglie e, attenzione, cosa fa? Gioca alla Xbox con uno schermo di 50 o 60 pollici, chissà, e dice, quando tu e tua moglie volete fare cose diverse, volete guardare cose diverse nella stessa stanza, quindi mette un televisore sopra l'altro e risolve il problema. Spettacolo. A casa dovreste tutti quanti imparare da Derek Needham e guardare la stessa programma in tv. È il futuro, questo, per avere un'ottima convivenza con le proprie. Sì, magari con gli auricolari, così nessuno e due sente niente. Chris Roberts, invece, si improvvisa come un cuoco e lo chiama lunchtime, quindi al momento di cucinare. Si chiama Luigi Roberts, si è ribattezzato Luigi Roberts. Sembra un parrucchiere, più che un cuoco. Invece, invece, stava cucinando, chissà cosa stava cucinando, non abbiamo poi visto. Andiamo veloce con Chris Wright, che invece non fa, non può che... No, Anosiche. Anosiche, sì. Prima c'è Anosiche, che appunto dice, sono venuto dal nulla, piccolo appartamento, grande famiglia, poco cibo, e addirittura, insomma, ratti, droga, pistole, insomma, tutto questo. Quindi, evidentemente, va passato un'infanzia molto particolare, come succede a molti americani. E, insomma, adesso sono qui, dice, sono qui a lottare con Varese. È un po' una cosa che accomuna tanti americani, però non è il primo che sento che viene dalla situazione disagiata. No, tra l'altro lui, credo, sia anche di origine nigeriana, dunque adesso bisognerà capire tutte queste esperienze, lui dove ricordo di averle vissute, se in America o in Nigeria, insomma, dunque... Un periodo particolare per Anosiche, che però adesso gioca a Varese. Chris Wright, dicevo, con un riferimento alle elezioni americane, se ne parla ancora, perché c'è stata questa settimana l'insediamento di Donald Trump, e c'è una foto in cui Obama dice, sei pronta, Michelle, sei pronta a lasciare la casa bianca? Spegne la luce, e idealmente spegne anche la luce degli Stati Uniti, che diventa, appunto, che va al buio. Insomma, anche Chris Wright è un po' contro, ecco, questa elezione di Donald Trump, come abbiamo visto nelle altre settimane. Marky Sainz, stiamo per chiudere il nostro momento social, Marky Sainz scrive un post molto particolare sulla palacanestro, dice che sta guardando le finali del 91, le finali di NBA, tra Bulls e Lakers, e dice, è incredibile come si è cambiato il gioco da quando ero bambino, rispetto a quando ero bambino. Poi parla anche di una situazione tecnica o tactica, dicendo che i Lakers, posting up every single possession, cioè vanno spesso in post alto ogni possesso, i Bulls invece preferiscono giocare la triangle. Insomma, in tutto il primo quarto ho visto soltanto quattro pick and roll. Sarebbe curioso chiedergli anche se secondo lui il basket da questo punto di vista è migliorato, a livello qualitativo di gioco sia peggiorato, insomma. Questa è una domanda che vorrei fare a te, che hai vissuto, insomma, anche quegli anni di NBA. Allora, il mondo americano lo confesso di conoscerlo pochino, insomma, fino a che c'erano questi giocatori qui, e mi riferisco ai Lakers degli anni 80-90, poi i Bulls di Jordan, insomma, ho un ricordo di qualche squadra, era un campionato dell'NBA che seguivo molto volentieri. Poi dopo c'è stato un pezzetto in cui, francamente, l'ho seguito poco, non dico ci capivo poco, ma l'ho seguito poco. Dunque, oggi vedo più che altro le finali, dunque non posso che apprezzare il talento di Stephen Curry, come gioca Gold Estate, mi sembra onestamente tanta roba, così come in questo momento una delle squadre che gioca un basket più europeo, quindi più simile a noi, e che guardo con grande attenzione, sono i San Antonio Spurs di Popovic, e dunque, ecco, sono queste in questo momento le squadre che attirano un po' la mia attenzione. Sulla differenza, probabilmente, dico, prima c'erano dei giocatori che erano qualitativamente, a tutto il mondo, migliori, no? Di quelli che sono, oggi forse si è spinti molto di più verso l'atletismo e un po' meno verso la tecnica, allora dico i Lakers di Magic Johnson, di Jabbar, di Worthy, erano Magic che realmente creavano della transizione, il famoso... run and gun, insomma, correre... Sì, 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 e mi sfugge il termine preciso con cui si identificavano loro. E così la stessa cosa a Jordan, nel senso, alla fine della fiera, erano giocatori molto tecnici, Boston Celtic, McKeel, bla bla bla, dunque, era un bel vedere quello lì, mi ricordo ero ragazzino, guardia dei Detroit Pistons, Joe Diumars, era un giocatore che mi faceva letteralmente sballare, per quanto era tecnicamente bravo. Oggi mi sembra che l'aspetto atletico prevalga in maniera prepotente, mi sembra, da quello che leggevo in questi ultimi anni, che prima dell'NBA, forse, o forse il prodotto NBA, non va in crisi, ma va in crisi il college, quindi anche evidentemente al college arrivano meno prospetti, ci sono meno allenatori bravi per sviluppare i giocatori americani, e tutto questo poi dopo ha portato ad attingere da tutto il mondo, dunque dall'Europa, dall'Asia, dappertutto, e l'NBA oggi continua ad essere un carrozzone, secondo me, più commerciale, quello spettacolo, esattamente, che non qualitativamente di altissimo profilo. Sì, sicuramente ci sono i grandi campioni, ma mi sembra in maniera minore rispetto a prima. Non è semplice stabilirlo. Stefano Sardara, per chiudere, scrive, bravi ragazzi, forza a Dinamo, ce lo meritiamo, va a brindare con tutta la squadra, dice anche quanto mi costa questo, chissà, la cena, o forse il campionato, non si sa, e per chiudere, Orlandina Basket, il profilo dell'Orlandina, che dice che tra i 12 dell'Olimpia, oggi c'è Giordano Bortolani, figlio dell'ex giocatore di capo, Lorenzo, e dell'Orlandina, Anna Maria Librizi, quindi insomma, una grandissima soddisfazione, sia per Giordano, che mi dicono che è molto forte. Speriamo, me lo auguro, me lo auguro vivamente, essendo anche mio parente vicino, sì, e speriamo che Giordano un giorno possa giocare, davvero, in Serie A, magari non a Milano, ma perché no, a Capo d'Orlando. Andiamo allora a parlare di Orlandina-Milano, vediamo allora il servizio di Maria Elena Calio, e poi commenteremo insieme a Coach e Gennaro, la partita di domenica sera. Non bastano i 21 punti, che non mi veniva in termini il suo taglio, il fatto di 7 triple realizzate su 11, a battere un Emporio Ormani Milano, solide e efficace, che ammazza la partita tra la fine del terzo e l'inizio del quarto parziale. La gara al Forum di Assago, si gioca a ritmi altissimi, con i paladini che sono ancora in partita, alla fine del primo tempo, quando il tabellone recita 45-39. L'allungo definitivo di Milano, arriva a metà dell'ultimo quarto, quando i padroni di casa vanno addirittura sul più 27, ma con un colpo di Reni, la Betaland chiude la gara con 16 punti di scarto sul 90-74. L'assenza di arci, pedina importante nel roster paladino, con il conseguente utilizzo da quattro per tanti minuti di un febbricitante Milenko-Tepic, pensano non poco nell'economia della gara, insieme alla lunga panchina di Milano, che manda ben 10 giocatori all'eferto. Il playmaker Ivanovic è arrivato a Capodorlando domenica scorsa e con pochissimi allenamenti con la squadra a causa del virus intestinale che lo ha colpito in settimana, non ha steccato la gara d'esordio, realizzando 10 punti e servendo 6 assist in 27 minuti, ma deve essere ancora inserito al meglio nei meccanismi di gioco dell'Orlandina. Sono molto contento della prestazione e dell'atteggiamento della mia squadra, dichiara coach Di Carlo nel post-partita. Abbiamo chiaramente sofferto il gioco interno dei lunghi e Milano ci ha fatto male anche in campo aperto. Detto questo, procediamo in quello che è il nostro percorso e ci prepariamo alla prossima sfida contro Venezia con l'obiettivo di mantenere inviolato il nostro palafantozzi in modo da rimanere tra le prime otto. Convocato per la prima volta in Serie A tra le fila delle A7, proprio per la gara contro la Betaland, il sedicenne Giordano Bortolani, figlio di Lollo, pivot che giocò a Capodorlando e Sant'Agata, e dell'Orlandina Anna Maria Librizi. Insomma, arrivata questa sconfitta che alla fine è di 17 lunghezze, anzi 16 lunghezze, scusate, 90 a 74, non è facile mantenere Milano sotto quota 90 punti realizzati, soprattutto in casa loro, no coach? Ma, devo dire, non è facile. Poi c'è da dire che, anche se con le debite differenze qualitative di rostre, però, in questo momento, penso che sono due squadre che giochiamo in maniera abbastanza speculare. Adesso, rivedevo qui, durante il servizio delle azioni, degli highlights, onestamente mi sembra che abbiamo segnato e ricevuto più o meno i medesimi canestri. Dunque, quando è così, è indice, secondo me, che non solo c'è un'impostazione tattica di un certo tipo, ma anche i giocatori sono bravi a trovare le soluzioni appropriate. loro, in questo momento, devo dire, ne trovano un po' più di noi, con continuità, però, quando è così, c'è anche un altro dato da dire, che, evidentemente, l'attacco, di solito, se una squadra è brava, predomina, di solito, sulla difesa. Dunque, Milano, in questo momento, in Italia, continua ad esprimere una qualità di gioco migliore di tutte le altre squadre, e dunque ha un arsenale che poi supporta la capacità di creare dei tiri aperti e dunque realizza 90 punti. Per queste ragioni è molto complicato giocare contro di loro, almeno nel nostro campionato. A livello internazionale, in Eurolega, le cose cambiano per loro, evidentemente, perché il gap con gli altri team, non solo si pareggia, ma forse è sbilanciato al contrario, e dunque, per quello che mi riguarda, mi sembra abbastanza normale che si trovano nei bassi fondi, in questo momento, della classifica di Eurolega, perché comunque il livello competitivo in Eurolega è molto alto. Per Caputo d'Orlando, il miglior realizzatore, ed è stato anche il miglior realizzatore della partita, è stato Drake Diener, con 21 punti. Vediamo allora, in particolare, le triple, sono state ben sette, di Mandrake, che ha davvero deliziato tutto il pubblico orlandino. di Diener ci ha ascoltato. Grazie a tutti. Poi è stato scarico per Diener, è ultimamente concentrato. Diener segna ancora da tre. Invece Diener, che non molla 18 punti per lui. Oh, Diener, 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 Diener! Mamma mia, mamma mia, Drake Diener! Che elemento, ragazzi! Devo dire che mi sono divertito di nuovo a vedere questi canesti di Drake Diener, che ha segnato in transizione, forzando un po' su un tiro costruito, insomma, in tutti i modi, è stata davvero la sua partita, partita incredibile, la migliore quest'anno forse di Drake Maglia Capodorland. Secondo me sì, dagli highlights anche qui si vede che la squadra sopporta lui come lui sopporta la squadra. Dunque, da questo punto di vista mi sembra che piano piano cominciamo a trovare il giusto equilibrio. Non ci dimentichiamo che Drake, comunque nel giorno di andata, ha avuto qualche acciacco fisico, dunque tante volte ha dovuto giocare non in perfette condizioni fisiche. Adesso facendo i debiti scongiuri riesce ad avere un briciolo più di continuità e si vede, gli highlights mi sembrano molto eloquenti laddove sì, ci sono state situazioni in cui lui è andato un po' sopra le righe, qualcuna, dove ha mostrato la sua grande capacità quando sente il tiro e sente il momento di alzarsi e tirare, ma in tante altre circostanze i compagni l'hanno messo in condizioni ottimali per poter tirare e come dicevo prima la squadra ha cercato anche contro Milano di fare il suo e da questi highlights si vede che tanti tiri aperti li abbiamo prodotti anche contro una difesa molto forte come Milano e dunque per queste ragioni sono anche ulteriormente contento in maniera generale della prestazione che abbiamo fatto a Milano. Insomma è arrivata la sconfitta a Milano, però non dimentichiamo che Capodorlando ha chiuso in quinta posizione il girone d'andata, un girone davvero incredibile con otto vittorie e sette sconfitte. Non lo diciamo soltanto noi, lo dice anche la Gazzetta dello Sport che qualche settimana fa e per la precisione il 12 di gennaio ha scritto il pagellone dicendo Johnson, riferitosi a G.J. Johnson di Cantù da MVP, Orlandina, due punti, applausi e tra i voti la squadra che ha il voto più alto con sette e mezzo. In particolare Andrea Tosi e Massimo Oriani scrivono la rivelazione della stagione, gira il quinto posto che ora dovrà faticare per mantenere avendo perso un giocatore importante come Filippo Aldo ma è un'andata da standing ovation. Parole davvero importanti anche per coach Di Carlo dice Di Carlo alta qualità il club siciliano è più di una sorpresa dopo la salvezza conquistata l'anno passato da coach semiesordiente Gennaro Di Carlo assistito da Enzo e Peppe Sindoni si sta confermando un tecnico di qualità in questo campionato che vede la sua Bedland come sorpresa dell'andata forte della difesa e di una bella miscela di giovani veterani il risultato è la qualificazione alle finalette il lancio e la cessione in Eurolega del periodo privato sono stati i colpi più importanti in termini economici questo ovviamente riferito all'orlandina in generale insomma da questa prima parte di campionato si nota come Capodoro Orlando sia la squadra che abbia sorpreso di più di tutti in Italia e coach Di Carlo allo stesso modo tra gli allenatori ma sai io ricordo benissimo quando ultimata la campagna acquisti dunque ultimata in mercato mi ricordo ci si apprestava ad avere a trovare il pivot il 5 e tutti ci davano come squadra spacciata sedicesima abbondantemente dietro Pesaro Cremona bla 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 oggi ci godiamo no? questo quinto posto perché è un quinto posto sudato sacrificato le vittorie che abbiamo conseguito sono tutte meritate sia quelle in casa e sia anche quella l'unica in trasferta contro Brescia che definirei quasi epica però il bello io dico che lo slogan il bello deve ancora venire effettivamente è così oggi ci piace alimentare questa sfida come dicevo all'inizio della trasmissione sappiamo di avere un giorno di ritorno più complicato più difficile sappiamo che per entrare nei playoff oltre che confermare le vittorie casalinghe bisognerà appizzicare qualche trasferta dunque bisognerà concretamente adesso mostrare i muscoli e mostrare di che razza siamo fatti di che qualità siamo fatti io certe volte mi fermo a pensare a come questa annata sta andando avanti a questo gruppo straordinario di ragazzi che alleno alla simbiosi alla sinergia che c'è con il club e quasi delle volte dico spero che questa annata non finisca mai perché è un'annata onestamente straordinaria si ha a che fare con dei ragazzi molto responsabili con dei ragazzi disponibili al sacrificio con dei ragazzi che quando parlo di responsabilità significa che tendono a raggiungere il goal il target l'obiettivo dunque quando è così sono realmente di quelle annate che bisogna godersele e sperare che finiscono il più a lungo possibile detto questo diventa anche gustoso cominciare ad andare su campi importanti come quello di Milano adesso tra un mesetto avremo la Coppa Italia insomma cominciare ad affrontare quasi dico a viso aperto con la stessa mentalità questi club molto molto blasonati ma cominciamo un po' a raccogliere i frutti di quello che abbiamo cominciato a costruire qualche tempo fa la stampa in questo momento è molto positiva è molto predisposta nei nostri confronti ovviamente ci fa piacere e e questo dimostra che comunque poi dopo le cose quando vengono ben fatte è difficile no? non vederle e in questo momento chiaramente ci fa piacere ma almeno parlo per me a livello personale non ci sono visto che che lì in questo pargelone venivo menzionato ma non mi interessa più di tanto io in questo momento sono intanto concentrato nel cercare di finire la stagione al meglio possibile e e sono molto concentrato in quello che è la mia crescita il mio sviluppo da allenatore dunque eh sì certamente sono complimenti attestazioni di stima che mi fanno piacere ma eh lasciano in questo momento a me il tempo che trovano perché eh so che devo fare ancora tanta strada e soprattutto mi piacerebbe che poi dopo come dire a questo livello ci rimanga il più a lungo possibile e soprattutto riesca ad arrivare il più in alto possibile e questo è l'obiettivo che in questo momento ho nella mia testa dunque le tappe intermedie no? come la Coppa Italia mi auguro domani le le i playoff e così ad andare avanti le vedo appunto come tappe intermedie di un percorso un po' più lungo dunque a oggi accetto i complimenti ma guardo avanti con grande attenzione e con grande pignoleria perché c'è ancora tanto da fare dicevi Coppa Italia eh Capodornando che fa parte delle fantastiche otto che faranno parte a questo a questa manifestazione a Rimini e ieri c'è stata la presentazione negli studi RAI e quindi il coach Gennaro Di Carlo insieme a Sandro Nicevic e al direttore generale Ciccio Venza sono andati appunto a questa presentazione che è stata davvero una bella un bello spot per la palacanestro italiana secondo me sì per quelle che sono le mie esperienze e conoscenze penso di poter affermare che sia stata la migliore presentazione delle finali di Coppa degli ultimi anni e dunque la location era molto affascinante eravamo negli studi RAI di Corso Sempione laddove trasmettono sia la domenica sportiva che quelli che il calcio quindi la location era molto molto bella molto particolare e anche la conduzione ieri credo ci sia stata anche la diretta streaming sì mi sembra di poter dire che è stata abbastanza asciutta abbastanza snella e soprattutto secondo me c'era un bel clima laddove con gli altri allenatori con gli altri tra i capitani insomma c'era questa sorta di solidarietà piacere ed è stato un momento dove realmente si è potuti stare un po' assieme senza come dire senza senza rivalità senza rivalità appunto eravamo lì si è riso si è scherzato si è fatto battute insomma in un ambiente molto molto carino dunque complimenti a chi ha organizzato quest'evento questa presentazione e mi auguro di poter vivere allo stesso modo un bel evento anche a Rimini tra un mese e queste sono le immagini di Reggio Emilia che sarà l'avversario di Capito d'Orlando nel weekend di febbraio mi dispiacerà per loro ma mi sa che dovranno come dire dovranno riceverla una sconfitta mi piace questa decisione questa determinazione no perché lo dicevo anche ieri quando mi hanno fatto un po' la domanda lì dice ma loro con Rimini voi siete già contenti sì sì no siamo contenti si fa piacere tutto bla 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 però dico c'ho una roba qui che non mi torna sono quattro partite da capo allenatore tra Lega 2 e Lega 1 contro Max Menetti e contro Reggio Emilia che non vinco cioè non ho mai vinto contro Reggio dunque dico mi dispiace ma mi sa che questo giro tocca la coppita quindi andiamo decisi lì e Reggio se ne torna a casa tra l'altro Reggio Emilia in questo momento sta vivendo un momento particolare ha perso tre partite di fila ha inserito un nuovo innesto se così possiamo chiamarlo nuovo anche se Caughena si è giocato per tanti anni lì è ritornato qualche giocatore forse non era molto d'accordo con questo innesto che mi ha sorpreso questa cosa qui è una situazione un po' particolare quella di sì poi hanno inserito un altro hanno inserito un lungo hanno preso questo americano da recanati Reynolds dunque per sostituire De Ruy James sì e sicuramente penso che loro lì tra un mese saranno assolutamente pronti per battagliare ma insomma io mi aspetto sinceramente che Reggio arrivi nella migliore condizione possibile così come noi che sia una partita bella per lo spettacolo e che alla fine Capodorlando vince vediamo qualche azione riferita a Orlandina a Milano-Orlandina chiaramente cominciamo dalle cose belle perché ce ne sono state tante per Capodorlando il pick and roll tra il nuovo acquisto Ivanovic e Antonio Iannuzzi eccolo qua insomma esce a fare show difensivo Milan-Macquan e poi un grande assist da parte dell'ex giocatore dell'Eca Patene per Antonio Iannuzzi questa azione l'abbiamo rivista tante volte con Bruno Fittivaldo insomma questo dimostra che non lo sa fare soltanto Fittivaldo questo tipo di giocatore chiaramente no nel senso chiaramente sì è chiaro che è una collaborazione questa che si vede tra l'altro secondo me inflazionata su tutti i campi però Nicola credo che sia un giocatore molto in gamba è una delle collaborazioni che lui sa giocare meglio è un giocatore che vede bene il gioco è un giocatore che sa passare bene la palla dunque sono convinto che Nicola con noi farà tanto bene e ci darà una grandissima mano per fare una seconda parte di stagione importante un canestro di Drake Diner una delle triple è stata la quarta triple in particolare nel secondo quarto arriva dopo un'azione diciamo così ben costruita perché parte sempre da Ivanovic che va in penetrazione e poi Mario Dellas che sembra come aver visto avere gli occhi dietro la testa è visto gli annunci scusate sembra avere gli occhi dietro la testa e vede in questo caso questo è un po' uno dei segreti che abbiamo noi tra virgolette quest'anno nel senso di avere dei lunghi che sono bravi a riaprire le azioni nel momento in cui la palla arriva dentro da loro dinamiche di gioco situazioni che si provano e si riprovano durante gli allenamenti e devo dire che sia Mario che tra l'altro a fine partita aveva sette assist ma anche Antonio sono dei pivot di grande comprensione e conoscenza del gioco e questo aiuta poi dopo a creare dei tiri aperti sul perimetro e onestamente Drake ne beneficia e gli altri esterni anche dunque loro sono realmente in questo momento un valore aggiunto e uno dei segreti dei nostri attacchi non a caso abbiamo scelto questa azione perché poi subito dopo ce n'è un'altra ovviamente nel secondo tempo sempre tra un piccolo e un lungo ecco diciamo c'è il blocco di Mario Delasch short roll e poi passaggio schiacciato per la schiacciata di Antonio Iannuzzi questo è quello che dicevi poco fa tu cioè dare la palla a lungo che poi riesce ad aprire sì perché in quella situazione lì è evidente che Mario in quella posizione lì attira Pascolo e chiaramente Iannuzzi legge lo spazio dietro la schiena di Pascolo e diventa poi facile andare a canestro ma tutto nasce dal fatto che Mario ancora prima che riceve la palla sa già sa già che sta arrivando un aiuto e di chi ecco lui qui ha già la consapevolezza eccolo lì ha già la consapevolezza di chi sta arrivando ad aiutare e dunque sa chi è il compagno libero da servire e ripeto Mario è molto bravo in questo ma lo sta diventando anche Antonio Iannuzzi dunque per noi avere due lunghi in questo momento che hanno questa capacità di capire il gioco di avere equilibrio orientamento e sapere anche passare la palla secondo me è tanta roba questa è una situazione che abbiamo visto e rivisto tantissime volte nel corso della stagione di Capodorlando ma qui qui devo svelare un piccolo segreto nel senso io sono arrivato a Capodorlando tre anni fa e tre anni fa mi sono trovato in una squadra dove c'erano tre geni di giocatori all'anagrafe fanno Gianluca Basile Sandro Nice e Teo Soragna e devo dire la verità da quando sono arrivato qua ho sempre nelle orecchie Basile che mi diceva Gennaro ma perché non usiamo ogni tanto lo short roll Gennaro ma perché non usiamo lo short roll ok basso vediamo di usare lo short roll spieghiamo brevemente cosa è lo short roll è quell'azione che abbiamo appena visto sì nel senso che il lungo dopo che fa un blocco al difensore di chi porta la palla anziché andare sotto canestro per prenderla la riceve sostanzialmente a metà strada tra la linea dei tre punti e il canestro in quella zona lì ecco dove adesso Mario prende la palla diventa una zona molto pericolosa perché lì diventa conflitto di interessi su chi deve andare a marcare il lungo perché se non va nessuno va a canestro se no da lì può tirare e dunque poi da quell'azione siccome è uno spazio ibrido vado io vai tu vado io vai tu si creano i cosiddetti sovrannumeri infatti lì si trova un 2 contro 1 aperto e non si schiaccia allora basso mi diceva sempre short roll short roll short roll bene l'estate scorsa quando si è pensata alla squadra a che tipo di lungo inserire come doveva giocare una delle idee tattiche che avevo io in mente era questa di Gianluca Basile che mi continuava a dire short roll short roll bene e siamo riusciti piano piano a tirarla fuori ieri si viaggiava tornavamo da Milano insieme e lui mi diceva cioè si parlava proprio di questo argomento ma ha detto finalmente siamo riusciti a fare un po' di short roll ecco allora quindi c'è un po' di Gianluca Basile nella ma la fortuna qui a Capodorlando almeno io sono arrivato tre anni fa e la fortuna di avere questi mostri sacri perché trattasi di mostri sacri gente che ha girato le arene i palazzetti più importanti d'Europa hanno vinto a livello internazionale allenati dai più grandi allenatori d'Europa dunque questa è la vera fonte dico io di tecnica e tattica del basket a Capodorlando e in questo momento devo dire che esprimiamo secondo me un buon livello di palacanestro tecnico e tattico quindi lo short roll oggi è una delle armi che noi usiamo e che viva Dio e fortunatamente sta mettendo in difficoltà a tutti ed è roba che Gianluca magari usava al Barcellona con Ivanovic che magari Sandro Nicevic usava nelle sue esperienze a Malaga piuttosto che a Treviso piuttosto che in Turchia e così via insomma ecco e perché no tante volte attingere da questi grandi campioni arricchisce il bagaglio tecnico di ciascun allenatore io onestamente ho avuto e ho la fortuna di avere grandi giocatori che dunque hanno grande conoscenza del gioco a me piace tra l'altro sempre stare lì e capire quali possono essere realmente le situazioni tattiche che possono mettere in difficoltà la difesa e questa qui oggi come oggi ci dà tanto ci vogliono le idee e anche i giocatori che mettono in pratica queste idee vediamo invece qualche azione che sarebbe un po' da rivedere ecco a livello difensivo per Capodorlando ci sono due canesti arrivati proprio all'inizio della partita uno è il canesto del 5-0 di Milano e l'altro invece è il canesto dell'11-5 sono situazioni in cui Capodorlando probabilmente è tornato in difesa un po' un po' lentuccia diciamo così un po' svoiata e poi ha subito questi canesti e forse l'atteggiamento iniziale di Capodorlando difensivamente che non è andato bene ma ti devo dire qua se vado l'azione come me l'avete fatta rivedere avevo avuto questa sensazione anche sul campo in realtà noi partiamo male in attacco perché lì ci siamo trovati è l'azione di prima ecco qui noi ci stiamo trovando ad attaccare in una situazione in cui sostanzialmente la squadra gioca con delle spaziature profondamente diverse da quelle che è abituato per tutto l'anno perché giochiamo con quattro piccoli e un lungo dunque in realtà parte dall'attacco la nostra cattiva transizione difensiva infatti prendiamo un tiro brutto non c'è equilibrio a rimbalzo non c'è equilibrio difensivo si fa fatica a prendere gli uomini per Milano è un gioco da bambini fare un canestro del genere poi per Milano che fa del contropiede della transizione una delle sue armi principali dunque ripeto lì mi sembra più che sia come partiamo male in attacco la seconda azione che mi hai fatto vedere mi sembra invece che sia più come dici tu nel senso c'è stata poca attenzione difensiva adesso se una penetrazione di Krunoslav Simon che poi insomma è da appoggiare di sinistro lì effettivamente eccola qui la stiamo rivedendo sì qui c'è una cattiva collaborazione sul blocco sulla palla qui è cattiva difesa perché sia Mario che Nicola insomma o parlano e parlano male o non hanno parlato dunque sostanzialmente si è trovato Simon a canestro e l'errore ancora successivo è un aiuto non aiuto fatto mi sembra lì da Tevich e dunque abbiamo concesso un layup questa si è assolutamente da annoverare in rosso come azione difensiva ma neanche molle cioè proprio non si è difeso ecco e chiaramente contro una grande squadra così cioè la paghi non così ma la paghi a carissimo prezzo insomma non te lo puoi consentire secondo quarto invece con un momento molto positivo per Capodoro che stava ritornando sotto ecco qui vediamo un'azione un po' forzata da parte di Vojislav Stojanovic che poi sostanzialmente si va a schiantare contro due giocatori di Milano e poi Milano corre in contropiede e va a segnare il canesso del 39-31 e qui anche con un po' di fortuna devo dire e qui poi arriva il time out proprio da chiamato da te stesso sì perché in questa azione è evidente eccolo qui lui va a tirare contro due giocatori c'è Diner fermo libero con i piedi per terra sul perimetro Voja ha ancora bisogno come dire di crescere nel senso questo è un aspetto che lui deve migliorare nel senso che lui si fida molto della sua prestanza fisica e dunque qui lui parte con l'idea di dire tanto io vado a canestro nonostante il contatto e non è così perché Milano presenta una fisicità un atletismo fuori target per quello che è il campionale italiano e dunque se Stojanovic vuole arrivare a competere a quel livello e secondo me ci arriverà a competere deve capire anche questo pezzettino cioè lui va a canestro ha due giocatori addosso deve dare la palla a chi è libero sul perimetro perché è quello che vogliamo eccolo qui ci sono tre giocatori tra l'altro sul perimetro contro uno e la migliore cosa da fare è passare la palla fuori e prendere un tiro con i piedi per terra questo chiaramente ci provoca che cosa che Milano ha la possibilità di prendere il rimbalzo e di partire in una transizione in cui per l'ennesima volta vediamo la squadra è fuori posizione perché loro attaccano e non riusciamo ad arginarli prima che entrano dentro la linea dei tre punti poi insomma arriva un canestro con un po' di fortuna però loro sono numericamente pronti lì dentro per prendere anche la palla vagante e finire la nostra situazione difensiva migliore è che quando questa palla arriva a pascolo il difensore lo deve tenere fuori la linea da tre di modo che si deve salvaguardare l'aria e togliere le prime opzioni di andata a canestro invece loro arrivano tutti e cinque in pratica in aria e questa cosa qui poi dopo può produrre anche un canestro fortunoso da palla vagante e già ma abbiamo visto con l'allenatore della Bedland Capodorlando tatticamente quali sono le cose da sistemare sicuramente in settimana ci sarà tempo per lavorare la settimana scorsa invece è stata la settimana della presentazione di Nicola Ivanovic che appunto è il nuovo acquisto di Capodorlando si è allenato pochissimo la scorsa settimana a causa di questo è arrivato fa un giorno di allenamento poi dopo è stato fermo due giorni poi dopo ha ripreso un pomeriggio ma mentre si allenava scappava continuamente in bagno poi dopo si è riallenato sabato mattina e poi dopo ha riavuto una mezza ricaduta di ripeto durante il riscaldamento dunque poverino è arrivato ma come dire era più a letto che in campo questa settimana mi auguro riesco a farla completa un ragazzo molto disponibile molto intelligente cestisticamente insomma ragazzo da cui mi aspetto tanto perché penso che sia una bella presa per noi vediamo allora la conferenza stampa di presentazione appunto venerdì pomeriggio è stato presentato a stampa e tifosi nella sala di noto del Palafantozzi il nuovo acquisto della Betaland Nicola Ivanovic il playmaker Montenegrino classe 1994 1,90 m per 85 kg è arrivato a Capodorlando domenica sera in prestito dalla E.K. Atene per sostituire Bruno Filippaldo ceduto al Galatasaray Istanbul nel giro della nazionale fin dalle giovanili giocatore di grande esperienza europea nonostante la giovane età Ivanovic è stato scelto dal DS Peppe Sindoni da coach Gennaro Di Carlo dopo aver valutato attentamente il tipo di giocatore adatto alle esigenze della squadra immediatamente parlando ho preso tante cose positive perché la squadra in genere giocava molto bene sapevo che c'erano altri giocatori del Balcani adesso il coach mi sta spiegando tutte le varie situazioni qui e io penso di poter affermare che in questo momento posso dare veramente un gran contributo voglio dare veramente un gran contributo alla squadra immediatamente come veniva ho ricevuto molto bene tutti è molto bello ho parlato immediatamente e quindi Ivanovic avrà tempo per inserirsi in questa settimana in cui ci auguriamo possa stare meglio e Dominic Carci invece è uno dei giocatori che è rimasto fuori la partita con Milano immagino anche per riaverlo in casa con Venezia la prossima settimana continuiamo di averlo in partita per la partita di Venezia sta continuando il suo percorso riabilitativo al momento reagisce molto bene alle sollecitazioni dunque se tutto va secondo programma domenica lo dovremmo avere in campo chiaramente come si è solito fare in queste circostanze bisogna verificare giorno dopo giorno come reagisce il ginocchio ai vari carichi di lavoro però penso insomma che con Venezia Dominic sia dei nostri e chiaramente non l'abbiamo avuto a Milano contro una squadra che chiaramente faceva della forza sottocanestro dei punti chiave insomma Dominic lì ci sarebbe servito ma importante è aver recuperato un giocatore che ci deve fare un grande finale di stagione perché per noi è molto importante e preziosissimo Venezia dicevamo che si giocherà la partita si giocherà appunto il 29 di gennaio arriva dopo quasi 365 giorni quindi dopo un anno della prima vittoria di Gennaro Di Carlo con sulla panchina di Capodorlando è stata una partita molto particolare il punteggio alla fine recitava 55-53 l'orlandina è riuscita ad ottenere la vittoria dopo 8 sconfitte di fila quello è il momento in cui è iniziato il cammino vero e proprio di Gennaro Di Carlo come capo allenatore a Capodorlando rivediamo quelle immagini di quella vittoria bellissima di Gennaro di Gennaro di Gennaro questa forse verrà ricordata come la partita meno spettacolare della storia di Capodorlando ma forse una delle più importanti coach se io solo torno con la mente alla tensione che ho vissuto nei giorni precedenti questa gara a oggi mi verrebbe adesso mi verrebbe la pelle d'occhio di nuovo nel senso insomma noi venivamo da un cambio di allenatore le mie prime due partite meno 30 meno 30 questa qui è una partita contro una squadra tostissima insomma bisognava portarla a casa a tutti i costi io mi ricordo ancora riunione del martedì di preparazione di questa partita disse alla squadra ragazzi nelle prime due partite le statistiche dicono che subiamo 100 punti a partita e ne segniamo 60 cioè se noi pensiamo di segnare 100 punti contro Venezia secondo me è inutile che la giochiamo secondo me invece per vincere dobbiamo costringere Venezia a segnare meno di 60 punti anche lì un gruppo straordinario fatto di uomini veri Basile Nicevic Ilieschi Iasaitis sono stati sostanzialmente i trascinatori soprattutto nel capire nel veicolare questo messaggio e ha prodotto una partita da complessivi 88 punti no 108 punti dico bene 55-53 108 118 108 dunque la squadra lì mostrò degli attributi che poi dopo ci valsero una salvezza che tra l'altro raggiungemmo nell'arco di due mesi dunque si camminò a ritmo spedito ma quella partita lì mi ricordo ci servì anche come si dice a togliere la scimmietta dalle spalle perché comunque la squadra si allenava forte aveva desiderio di fare risultato e lì demmo dimostrazione di avere ripeto le cosiddette palle dunque è un ricordo straordinario a oggi arriviamo in maniera diversa con delle convinzioni profondamente diverse ma con la consapevolezza che domenica ci sarà da lottare all'inverosimile perché intanto Venezia a oggi è la seconda forza del campionato ha un roster profondissimo una squadra di grande talento sono secondi in campionato non a caso e chiaramente loro vorranno confermare la seconda posizione in trasferta sono molto temibili hanno vinto su campi molto complicati e dunque verranno qui cercando di fare bottino pieno ma non passeranno nel senso sono sicuro che noi porteremo a casa una vittoria che ci deve cominciare a far marciare nel girone di ritorno verso gli obiettivi che noi pensiamo di raggiungere dunque troveranno un'orlandina cattiva un'orlandina determinata un'orlandina vogliosa di tornare a vincere dopo le due sconfitte consecutive fuori casa di Pesaro e di Milano e dunque lotteremo strenuamente affinché la vittoria arrivi alle ore 20 e 15 vediamo insieme allora qualche informazione 20 e 15 due alle 12 quindi a luna e mezza domenica domenica alle 12 domenica 29 gennaio ore 12 andrà in diretta anche su Sky Sport vediamo insieme allora qualche informazione su Venezia il quintetto tipo di Venezia è formato da Ains, McGee, Bramos, Peric e Higgins ci sono praticamente due riconferme in questo quintetto che sono appunto Bramos e Peric in panchina Filloi, Tonut e Jim no Tonut non sarà Donut scusate l'abbiamo inserito ma è ancora infortunato e Jim, Vigiano Rez e Ortner Venezia è anche una squadra che distribuisce molto bene i suoi punti infatti il migliore realizzatore ha appena 12.9 punti ed è Marquis Ains per rimbalzi il leader è Peric con 6.3 Peric tra l'altro viene da una grandissima partita da 27 punti e per assist è sempre Marquis Ains il migliore con 3.2 insomma è una squadra che segna molto e la seconda c'è un dato lì che leggo statistico che conferma quello che pensavo adesso lo sto vedendo i punti in trasferta immagino punti in trasferta e la percentuale al tiro da 3 tirano col 39% circa il 40% da 3 e mi ricordo la partita di andata dove contro di noi fecero una prestazione superlativa stiamo in partita per più o meno 25 minuti e poi dopo ci riempirono di triple e dunque è una loro peculiarità e bisognerà fare molta attenzione a togliere questa opzione che per loro produce tanto ed è il motivo per cui loro riescono anche a vincere tanto fuori casa perché riescono a tirare con fiducia anche quando giocano fuori appunto fuori casa dunque bisognerà essere realmente molto attenti per portare a casa una partita molto molto importante nei precedenti in Serie A hanno vinto sempre la squadra che ha giocato in casa quindi al momento lo score dice 3 a 2 per Venezia il Palafantozzi chiaramente il capo di Orlando ha vinto entrambe le volte sia due anni fa che lo scorso anno io ringrazio coach generale Di Carlo per essere stato qui con noi in bocca al lupo per la prossima partita e speriamo di vincere non solo questa partita ma anche tante altre partite io ringrazio te e mi auguro di vedere domenica tanti orlandini a sostenerci a tifare per noi e a spingerci perché da domenica parte questa nuova avventura in questo girone di ritorno che ci deve progressivamente portare prima a fare una bellissima Coppa Italia e poi alla fine per lottare e confermare una delle posizioni nelle prime otto della classifica così da giocarci anche un pezzetto di playoff dunque mi auguro che i tifosi arrivino numerosi per cominciare a brindare il giorno di ritorno con una vittoria importante contro Venezia Nel campionato di Serie A2 come sempre facciamo il focus su ciò che è successo nel Girone Ovest dove sono impegnate Moncada, Agrigento e Lighthouse Trapani allora il servizio di Maria Elena Caliò Due sconfitte entrambe arrivate sulla sirena nella diciottesima giornata di A2 per la forzitudo Agrigento e la Lighthouse Trapani contro le capoliste del Girone Ovest Biella e Legnano si ferma a 7 la serie di vittorie consecutive della forzitudo Agrigento che cede allo scadere contro l'Angelico Biella per 83 a 84 per merito di una giocata di talento di Jasmar Ferguson folletto americano dei piemontesi che si conferma uno dei giocatori più forti del campionato una gara dai due volti per i ragazzi di Coach Ciani che subiscono l'offensività di Biella per lunghi tratti toccando anche 18 punti di svantaggio nel terzo quarto da lì però gli agrigentini si ritrovano soprattutto nella propria metà campo trovando maggiore fiducia anche in attacco nel finale punto a punto Perin Baford il migliore dei suoi con 17 punti a referto firma con una fantastica schiacciata il vantaggio l'unico della partita per gli agrigentini sull'83 a 81 nel finale il cardiopalma con due secondi e nove decimi da giocare Ferguson trova l'equilibrio per una tripla pazzesca allo scadere che regala i due punti all'Angelico Biella neanche Trapani riesce nell'impresa di battere l'Euro Promotion Legnano e di espugnare il campo della capolista finisce 64-62 una partita decisa solamente all'ultimo secondo gara dal punteggio basso ma con un tasso di agonismo elevatissimo il primo quarto si chiude in perfetta parità a quota 17 nel secondo quarto Legnano di Laga guidata da Palermo fino al più 12 Trapani ricuce nella terza fazione con 5 punti consecutivi di Scott che valgono il nuovo pareggio a quota 51 la tripla di Filloi firma il nuovo vantaggio Granata Legnano però risponde ancora e con Raivio è più 6 a 5 minuti dalla fine Villanisi la impatta dalla lunetta a quota 62 e il match si decide soltanto nell'ultimo secondo di gioco con i padroni di casa bravi ad eseguire un'ottima rimessa dal fondo a un secondo dalla sirena finale che porta Raivio al tiro in sottomano della vittoria e vediamo la classifica del campionato di serie 2 Girone Ovest con Agrigento a quota 22 si trova praticamente a 4 punti dalla testa della classifica occupata da Legnano e Biella a quota 26 mentre Trapani resta a metà a quota 18 si trova appunto in zona playoff però sicuramente ha perso terreno un po' rispetto a qualche giornata fa campionato di serie B Girone C che viene impegnato a Barcellona Patti e Cefalù Barcellona questa settimana non ha giocato a causa dell'allerta meteo che c'è stata nella provincia di Messina Patti e Cefalù invece hanno disputato regolarmente le loro partite allora sentiamo il servizio di Benedetto Ortitullo riposo forzato per il basket Barcellona costretto a stare alla finestra e guardare lo svolgimento delle altre gare del Girone C del campionato di serie B l'allerta meteo è infatti portato al rinvio di tutte le gare agonistiche non in programma sul territorio barcellonese giocano tutte le altre a partire dallo sport e cultura Patti che perde di stretta misura in casa di Catanzaro dopo aver dato filo da torcere ai padroni di casa trovandosi anche a condurre l'incontro benissimo invece Cefalù che riscatta la sconfitta nel derby con Barcellona e va a vincere in casa della Tigers Forlì con il punteggio di 67-72 per quanto concerne l'andamento della graduatoria Valmontone perde il primato solitario dopo aver ceduto in casa contro la Virtus Cassino ospiti bravissimi a capitalizzare le defaianze dei padroni di casa conquistando due punti preziosi Cassino che viaggiava a braccetto con Barcellona mantiene invariate le distanze da Palestrina vittoriosa a Viterbo in vetta l'aggancio di Napoli che vince senza alcuna difficoltà in casa della Stella Azzurra Roma sempre terz'ultima davanti a Viterbo e Maddaloni reduce dalla sconfitta con la Luiz Roma che dal canto suo è tornata alla vittoria e che domenica prossima riceverà la visita di Barcellona sperando nell'aggancio ai giallorossi che però appunto dovranno recuperare la gara con la Visnova Roma e quindi vediamo i risultati nel dettaglio del campionato di Serie B Girone C con Barcellona che come abbiamo detto non ha giocato contro la Visnova Simpli Roma c'è Falù che vince 7-2 6-7 sul campo di Forlilas l'Azzurra Roma che perde in casa di 18 punti contro Cuore Napoli Basket 61-79 e poi Patti che perde in trasferta sul campo di Catanzaro 67-72 a 62 scusate chiudiamo il nostro discorso sulle Minors con il campionato di Serie C sentiamo allora il servizio di Gabriele Ferruccio In attesa del turno infrasettimonale che si giocherà domani sera mercoledì 25 gennaio è stata rinviata data da destinarsi causa all'erta meteo l'incontro della capolista Costa Dorlando contro il basket school Messina in programma nel weekend scorso una vittoria arrivata invece per la nuova Gatirno che muove la classifica salendo i doppia cifra la formazione guidata da coach Silva Suarez supera in calda al termine di una partita equilibrata allo sport club Gravina per 71-69 Winford e compagni vanno avanti anche di 15 lunghezza a metà dell'ultimo quarto ma Gravina ricuce e prende il tiro anche per pareggiare la gara che viene però sputato dal ferro la Gatirno va così a 10 punti in classifica alla 17esima giornata del campionato di Serie C portando 4 uomini in doppia cifra Winford con 20 punti Giorgio Galipo con 14 Pavicevic con 11 e Hox con 10 nel turno infrasettimanale impegna in trasferta per la squadra di coach Silva Suarez impegnata sul campo del fanalino di coda Cuscatania mentre la costa d'Orlando ancora imbattuta nel torneo ospita al Palavalenti il basket club Ragusa seconda e classifica in Serie D continua la marcia della confezione Corpina Torrenova che coglie la quarta vittoria consecutiva battendo al palazzetto di San Filippo del Mela il mini basket Milazzo per 86-67 la formazione di coach Bacilleri imprime da subito la sua superiorità controlla la gara fin dalla palla a 2 e porta a casa il match con un allungo a cavallo dell'intervallo per le Aquile sono 27 punti di Diacenco 22 per Art e 19 per Campbell prossimo impegno sabato 28 gennaio al Paladon Bosco di Palermo per sfidare i padroni di casa della GM Basket Academy insomma tantissime sono state le partite che sono state rinviate a causa del maltempo ce ne sono state soltanto 3 giocate appunto in una di queste 3 c'è quella della Nuova Catirno con la vittoria 71-69 in casa come abbiamo sentito nel servizio Ragusa vince facile contro il Cus Catania 97-76 e la polisportiva Alfa Catania vince in casa contro l'Icata 79-62 la classifica al momento vede la Costa d'Orlando in testa con 32 punti con ancora una partita da recuperare questa settimana si giocherà appunto il big match contro Ragusa che è a quota 28 punti scendendo un po' più in basso il Green Basket Palermo a quota 22 lotta ancora per un posto nella post-season la Catirno Capodorlando con questa vittoria sale a quota 10 e si va ad aggiungere il gruppetto composto da Cocuzza e Licata nel quale si cerca appunto di evitare la retrocessione il terzo tempo finisce qua a me non resta che ringraziare chi ha contribuito alla stesura di questa puntata vale a dire Maria Elena Caliò Sergio Granata Benedetto Ortitullo Gabriele Ferruccio e Giuseppe Vaniscalco l'appuntamento con il terzo tempo è sempre per il prossimo martedì vi ricordo anche che è possibile riguardare le nostre puntate sui canali di YouTube buonasera da tutti